Salve, sono Alessandro Tricomi, vorrei dedicare a Meet 50 e più di Arezzo un piccolo spazio musicale, in questo caso proponendo un brano di Johann Sebastian Bach, l'aria iniziale e finale delle Goldberg Variazioni. Questo brano è stato commissionato a Bach dal conte von Kaiserling, un signore che soffriva di insonnia e quindi sono state pensate per essere eseguite nella stanza attigua alla camera da letto del conte stesso, il quale si avvaleva dell'esecuzione del clavicembalista Johann Gottlieb Goldberg, appunto l'esecutore dal quale poi prende il nome questa grande opera monumentale di cui anche il grande Glenn Gould non vedeva né l'inizio né nella fine, come lui ebbe modo di dire. L'area iniziale, appunto, che poi, come ho detto, viene eseguita anche nel finale, è semplice, carezzevole, proprio qualcosa che dà sollievo, che infonde pace nell'anima e che trovo particolarmente adatta a tutti noi in questo momento. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.